a Bella a tutti qua è the real girl e sono in amnesia the dark called Descendant, qualcosa del genere non mi ricordo più i tasti cazzo aspettate un attimo che è dopo ok cos'è F? ok la cosa com'era? ok cazzo è ok tu potresti aver perduto uno dei migliori cambiamenti in una produzione ok sono rimasto qua con il mio amico mi sembra ho fatto le video con il mio amico non mi ricordo più un cazzo so che avevo preso una chiave oh ok avevo preso una chiave poi non mi ricordo più niente com'era? ah ok oh ma cos'è questo? ok ciao mi sono Mark Nickander sono un artista e un creatore di Ficcional Games ho iniziato come un aiuto durante il penumbra overture e ho finito scoperto come un artista full time in una parte laterale del penumbra black sì ma smettetelo uccelli dal cazzo ah 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 oddio oddio ok di qui non si passa cos'è che ho? chiave della cancina ah cantina sono data cantina dove cazzo è la cantina cos'è che dice qua? no you're letting ah ah cos'è questo? laboratorio ah cos'è sto? ah ah lasciatemi in pace ops cantina ok lo sapete fece strada dal suo corpo strano appena cadde nel don si vabbè cazzate 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 piiuuuu ah 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 come e cazato è oh ah ah fangcollo ah 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 no cazzo non ha saltato niente Cos'è? Ehi Non voglio giocare Cosa sono tutti sti versi Introduzione Introduzione Dove cazzo sono finito? Cos'è? Ah bene Yeah scatola con qualcosa L'esca è l'arcaino l'arcaino Ah Cazzo Perchè? Adesso Oh che potenza Menchie Ok Non scusatevi Ah 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 No Ah Ah Ok Ah 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 Ok Ah 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 o Oh Cazzo, che è successo qua? E' meglio non farlo Ah, c'è qualcun altro qui, lo so Ah Cosa cazzo è successo qua? Cazzo 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 Le ultime parole di blobla blobla Il mio nome è bla 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 Casa di bla 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 Questo è la mia ultima parola, la mia confessione, i miei testament 2 anni fa sono stato convocato a Castello di Aspettate che abbassa un po' il volume, ecco, ancora la maggior parte delle... Ah, ero curioso di sapere cosa, bla 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 bla. Ok, qua non c'è niente. Aha. Dai, tutto bene fino adesso. Fanculo, vado sempre accovacciato. Perché so che sono ciechi, mi sembra. Quindi solo se... Ah, ok, scherzavo. Non è cieco, mi vede. Mi vede bene anche. Quindi devo scappare subito. Sono delle scale. Ma che che mi ha dato... Qual è la mia fonte che mi ha detto che... Sono ciechi, fanculo, non è vero. Ah. Oh, cazzo, cazzo. Oh. 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 Oh, oh. Che cosa è successo? Oh. Scusatemi se vado così lento, ma mi sto cagando addosso. Ok, niente. Ok, niente. Niente. Ma non capisco se sono i miei riparsi o sono di qualcun altro. Ah. Eh, bastare. L'ho chiuso qui, ma... Eh. No, fanculo. Cazzo significa? Già? No, ok. Minchia, è già passato un quarto d'ora, non ci credo. in questo caso. Si che... ...